carissimo popolo italiano sono il presidente del consiglio giuseppe conte volevo dire che nei ministri sono abbastanza soddisfatto però avrei voluto io in qualità di presidente avrei voluto come ministro della difesa chiellini ministro del del tesoro marotta e del ministro degli esteri quadrato purtroppo questo non mi è stato consentito e vedremo il da farsi col mercato dei ministri in futuro